ciao 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 sono le 23 e 20 minuti e quindi ti dico buongiorno buongiorno ma come sono le 23 e 20 sono le 11 e 20 di sera e ti dico buongiorno buongiorno sono impazzito perdo colpi no 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 è un buongiorno buongiorno parlo di attualità ma non potevo aspettare fino a domani non potevo aspettare fino a domani mattina non sto nella pelle sono euforico sono entusiasta direi che sono eccitato ma è meglio non dirlo ti ho già spiegato in un altro video perché è meglio non dire sono eccitato ma sono euforico sono entusiasta che cosa è successo che cosa è successo ti devo raccontare tutto se hai letto il diario di bordo di patreon lo sai già l'ho anche detto nella presentazione diretta di di patreon adesso ti devo raccontare però che cosa che cosa è successo allora questa mattina io ho aperto la app che questa qua questa si chiama io la app della pubblica amministrazione e l'app del super cashback tra le altre cose ho aperto la app io e va bene poi c'è l'impronta digitale per lo sblocco no non la presa come mai ecco qua e poi che cosa leggo qua sotto si legge l'invio dei certificati verdi è in corso aspetta che te lo faccio leggere meglio te lo faccio leggere meglio io non ci potevo credere non ci potevo credere l'invio dei certificati verdi è in corso te lo faccio leggere ancora meglio ecco qua no non te lo faccio leggere ancora meglio va bene e potrebbe richiedere diversi giorni il certificato verde i certificati verdi ma davvero allora diamo a cesare quel che è di cesare diamo a super mario quello che è di super mario diamo al governo quello che è del governo diamo a cesare quel che è di cesare cosa vuol dire riconosciamo a ognuno i suoi i suoi meriti per giorni e settimane ho sentito parlare di green pass e ho provato tutto il disgusto per l'ennesimo anglicismo e invece sulla app della pubblica amministrazione su una app ufficiale dello stato italiano si parla di certificati verdi è una bella notizia no la prima sensazione che ho provato è stata quella di stranezza spaesamento perché purtroppo è così ma guarda un po ci sembra strano anche a me sembra strano trovare parole italiane in italia nei siti della pubblica amministrazione e sì però poi ho provato subito una grande gioia diamo ad antonio quello che è di antonio antonio zoppetti gli ho fatto subito i complimenti anche se lui dice ma giustamente dice ma non centro io però secondo me l'azione seria attenta competente alta di antonio zoppetti non è passata non è passata inosservata e quindi io faccio i complimenti anche ad antonio per la sua azione e invito tutti a leggere il suo blog a seguire tutto quello che fa a leggere il suo blog diciamolo in italiano nella descrizione di questo video c'è il collegamento non l'indirizzo il collegamento non il link il collegamento al suo blog blog va bene blog va bene blog va bene allora io ho visto questo certificati verdi e ho sentito dentro di me il fuoco della speranza verde speranza diamo a cesare qualche di cesare riconosco i meriti di cesare il super mario del governo e uso questa espressione quando soprattutto quando io mi riferisco a qualcuno che in precedenza ho criticato sì ho criticato il governo e ancora lo critico per il question time il parlamento la classe politica italiana che usa anglicismi e in questo modo compie un alto tradimento nei confronti della lingua italiana ancora lo critico ma do a cesare quel che è di cesare e riconosco sono felice di riconoscere questa cosa ma andiamo avanti perché non è finito qua non è finita con questa strisciolina ma guarda un po ci vuole poco per farmi felice ci vuole poco basta una strisciolina digitale e sono felice ma guarda che bello andiamo avanti perché poi dalla da questa strisciolina io vedo più info più informazioni e apro apro la pagina e nella seconda pagina c'è la conferma di questi certificati verdi certificato verde in grande poi in piccolo certo green pass in un'ottica europea anche se poi non in tutti i paesi europei la lingua inglese è la lingua ufficiale di quel paese proprio no però vabbè c'è un green pass in piccolo visto che quasi tutti conoscono l'inglese hanno studiato l'inglese però in grande certificazione verde ma che meraviglia ma che meraviglia certificazione verde certificazione verde certificazione verde ma che bello ma gli stranieri poi non capiscono ma no gli stranieri capiscono e se non capiscono sono ben contenti di imparare l'italiano cari amici italiani voi non sapete quanto 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 amore quanto amore in giro per il mondo c'è per la lingua italiana per l'italia e quanto rispetto quanto rispetto si sente nel mondo in giro per la lingua italiana allora andiamo avanti perché poi da questa pagina c'è un collegamento c'è un collegamento al a una pagina dedicata del ministero della salute e anche qua si parla di certificazione verde certificazione verde poi più in piccolo eu digital covid certificate ma guarda che meraviglia sono contento e ci va guarda ci basta poco basta a noi basta poco mi basta poco per per festeggiare è una bella notizia è una bella notizia quindi il certificato mi è arrivato tramite l'applicato quindi ti è già arrivato leonardo qua il l'applicazione parlava di diversi giorni però diceva potrebbe potrebbe doppia b potrebbe pausa potrebbe potrebbe richiedere diversi giorni invece no è già è già arrivato però non non vado da nessuna parte perché non ho i soldi dice leonardo o il certificato però però sono soddisfazioni hai tu hai il certificato verde però adesso andiamo avanti allora adesso questo green pass e poi dobbiamo affrontare il tema degli hub qua in italia non pronunciamo la h se green pass fa venire in mente qualcosa alla maggior parte degli italiani beh la parola hub è molto più oscura purtroppo una uno degli effetti collaterali della pandemia è stato quello dell'introduzione di tanti anglicismi fra cui l'assurdo assurdo assurdo stupido ridicolo idiota termine di hub 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 abbi pazienza abbi fede ab no h u b io vivo vicino a un aeroporto e quindi conosco la parola hub e noi la pronunciamo così hub hub vabbè adesso ti faccio vedere e purtroppo la leggo che cos'è lab chi vuole spiegare cos'è il lab lab è uno snodo lo snodo e cos'è è una cosa che tiene insieme altri pezzi tiene lo snodo in un aeroporto lab è uno scalo uno scalo che mette in collegamento altri aeroporti quindi nell'idea della ruota il punto centrale poi dal lab partono arrivano aerei che poi partono verso altri verso altre direzioni quindi un grosso aeroporto internazionale un hub un centro un centro in cui arrivano aerei e parlo lab vaccinale ma va ci tu al lab vaccinale ma ma adesso ti faccio vedere e purtroppo lo trovo ho preso un titolo al volo che ho trovato ci state trattando come cavie nel lab dei richiami ma poi lab lo snodo di che cosa lab perché io poi ci ho pensato lab l'aeroporto io pensavo arriva lì la persona poi lo mandano da altre ma no il centro 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 un grande punto un grande posto una location tiro un pugno un grande posto un centro in cui le persone fanno quello che devono fare perché ab 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 che cosa ab allora adesso caricato di questi certificati verdi super mario perché secondo me c'è il tuo zampino il 12 marzo di quest'anno c'è stato un altro grande momento di euforia qua in uiv quando in un incontro pubblico in un non so dove non mi ricordo più dove fosse super mario ha fatto ironia ha ironizzato sull'uso e abuso degli anglicismi e ha suscitato ilarità fra i presenti ha suscitato ilarità divertimento risate ma perché bisogna usare termini e parole straniere secondo me c'è lo zampino in questo certificati verdi di di super mario di super mario del gruppo attorno a lui secondo me 12 mesi fa non si sarebbe usato il termine certificati verdi secondo me in questi mesi c'è un po più di attenzione anche grazie a rompiscatole come antonio zoppetti perché rompiscatole perché perché anche fra i linguisti non c'è uniformità di vedute io non posso non voglio e non devo dire tutto quello che che so però io ho già detto che trattare questi temi non è semplice in italia perché anche nel gruppo dei linguisti questi temi possono essere non così graditi antonio zoppetti ha fatto un lavoro fantastico un lavoro quotidiano su questi temi e secondo me grazie a lui e ad altri perché poi dal basso ecco però dal basso grazie a qualche rompiscatole dal basso che ha segnalato l'assurdità dell'abuso degli anglicismi di questa grande quantità di parole stranieri che sono piombate sull'italiano per volontà degli italiani tutte assieme tutte nello stesso periodo e stanno creando una distorsione assurda ridicola quindi grazie alla sua azione io conosco antonio più di altri quindi dico conosco antonio e vedo quello che fa lui conosco altri magari anche più famosi di antonio e vedo quello che non fanno allora io dico bravo ad antonio bravo ad antonio io dico antonio come se fosse il mio vicino di casa grazie al professor antonio zoppetti così va meglio e no se no stiamo e antonio ciao a il sale no professore antonio zoppetti cerca pagina wikipedia antonio zoppetti così vedi cosa cosa ha fatto e cosa cosa fa e leggi diciamolo in italiano quindi grazie alla sua azione non a caso nel 2021 in un sito della pubblica amministrazione ci stupisce ecco il fatto che ci sia scritto certificati verdi è triste stupirsi di trovare una parola italiana al posto di dell'alternativa inglese straniera in un sito della pubblica amministrazione italiana però è così c'era green pass c'è ancora green pass in piccolo in grande c'è certificati verdi per me questo è un grande successo è un punto di partenza allora questo certificati verdi deve essere un hub uno snodo per partire in altre direzioni con più forza per denunciare l'assurdità di hub cari giornalisti io siete sempre criticati voi anche magari ingiustamente poi oggi oggi un giornalista ha trovato il bambino scomparso è stato un giornalista a trovarlo quindi la categoria oggi è in festa giornalisti state attenti per favore per favore basta con questi anglicismi stupidi fate ridere fate ridere gli studenti di lingua italiana nel mondo siete comici ridicoli non fatelo non fatelo più pentitevi convertitevi all'italiano non fatelo basta con questo hub non ha senso non ha senso basta con fake news non ha senso notizie false notizie false basta con le mission basta con le location basta però io voglio festeggiare oggi non voglio arrabbiarmi sono davvero felicissimo per certificati verdi allora hub è uno dei sopra dei soprannomi di boston allora poi leggiamo un po di commenti allora complimenti per la certificazione verde alejandro certificazione verde certificazione verde dose una s una s per devo fare la tassa sulle doppie qua in italiano ce le dimentichiamo nel centro america nel sud america così a caso raddoppiano di qua e di là dose non dosse i dossi c'è il dosso i dossi festeggiamo è una bella notizia anche secondo me una bella notizia non abbiamo vinto niente nessuno però è un punto di partenza e dobbiamo anche dare a cesare quel che dice se lo dobbiamo dire grazie dobbiamo dire grazie al governo italiano al ministero della salute per questa scelta dobbiamo dire grazie alle persone qui al governo no sono le persone che determinano i cambiamenti le cose succedono perché qualcuno perché qualcuno decide che quelle cose devono succedere le cose non succedono perché ci sono persone con nomi e cognomi che scelgono di non far succedere quelle cose non so chi sia stato però io dico grazie a chi ha deciso di scrivere certificati verdi non a caso ovviamente perché da tempo si parla di green pass io ho sentito sempre e solo green pass sul sito del governo italiano certificati verdi poi green pass giustamente in piccolo certificati verdi facile no questo non è un discorso partitico non è un discorso ideologico e non c'entrano cario giornalista di domani boomer millenials ma vaffan bagno vaffan bagno ma si può dire non c'entra niente e antonio ha dedicato ha dedicato un articolo duro a quell'articolo senza senso folle boomer cosa c'entra allora quindi perché mi arrabbe perché perché mi accaloro mi infervoro però sono felice e il buongiorno buongiorno finisce qua il buongiorno buongiorno delle 23 40 finisce qua domani di che cosa parlerò o o argomenti fino al 2099 poi mi fermo perché voglio fare altro dopo però fino al 2099 starò qua la lista è lunga grazie a tutti buona continuazione viva i certificati verdi almeno dal punto di vista linguistico sul resto poi ognuno ha le sue idee teniamoci stretti certificati verdi a basso ab e restiamo vigili un abbraccio grazie ciao ciao